Per eseguire un innesco corretto del bibi ci serve un ago innescatore ad occhiello e molta cura. Infiliamo l'occhiello dell'ago nella parte più dura del bibi facendolo fuoriuscire con cura dal foro anale cercando di danneggiare il meno possibile il verme. Una volta eseguita la prima fase facciamo passare la lenza nel verme con l'ausilio dell'occhiello fino ad arrivare al nostro amo, in questo caso un Bic del numero 1. Accompagniamo l'amo all'interno del bibi lasciando l'artiglione bene in vista favorendo così la boccata dei pesci. Eseguendo l'innesco del bibi in questo modo le nostre probabilità di pesca aumenteranno esponenzialmente. Lascia un tuo parere nei commenti su questo tipo di innesco. Infine se ti è piaciuto questo video lascia un like per supportare il nostro lavoro ed iscriviti al canale per non perderti le nostre novità.